Pietro Pifano sei entrato nella ripresa, hai qualche problema lo sappiamo tutti, però entrare e gestire insieme ai compagni questa vittoria è importantissimo. Sì, era di fondamentale importanza oggi, io purtroppo è un po' di tempo che convivo con un problema al ginocchio, cerco di essere utile alla causa il più possibile. Ecco, 2-0, una prestazione di sostanza questo oggi dell'Agnone, una vittoria limpidissima dobbiamo dire, si è rescesi bene in campo fin dalle prime battute. Sì, sicuramente è stata una vittoria meritata anche perché loro non hanno mai calciato in bordo, non hanno mai creato pericoli al nostro portiere. Noi forse abbiamo peccato di non chiudere la prima partita avendo molte occasioni da gollo, però l'importante è portare a casa questi tre punti. Ecco, per questa salvezza che sarebbe storica anche quest'anno per l'Agnone. Sì, parlavamo anche con gli avversari che hanno chiesto da quanti anni si era in serie di l'Agnone e loro quasi non credevano che un paesino così piccolo comunque sta da sette anni in questa categoria. E sarebbe comunque un altro mezzo miracolo anche quest'anno mantenere la categoria. E domenica si va in trasferta a Fano, un'altra tappa fondamentale di avvicinamento a quella zona fuori dai play-out. Domenica è una partita difficilissima, affermo, perché comunque sono una squadra che stanno in salute, lo stanno dimostrando e dobbiamo cercare di portarci qualcosa di positivo a casa. Grazie. 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 Grazie.